Queste sono immagini che sono state fatte per mostrare la qualità dello spazio del nuovo posto. Abbiamo voluto far vedere che si tratta non di uno scalo tecnico ma si tratta di un luogo della città. E qui abbiamo un altro nodo molto importante che quello che sta intorno alla stazione della ferrovia metropolitana. E crediamo sia uno dei poli dello sviluppo più importante di Corinto. Soprattutto un polo di servizi per il territorio. In cui potrà essere determinante il recupero della vecchia caserma militare. Il che potrebbe essere una proposta per la rigiera occidentale. E qui vediamo una proposta per la rigiera occidentale. E qui potrebbe essere ricchiata da un molo attrezzato. E qui potrebbe essere un molo attrezzato. che potrebbe ospitare tutta una serie di servizi che non possono trovare spazio a terra. E qui potrebbero essere filoxenissi i perissi che non potrebbero avere un luogo all'interno della città. Per ultimo qui vediamo una proposta di risistemazione dello spazio della vecchia Corinto. Con la riunificazione delle parti che oggi sono separate dall'impianto diario. Con la riunificazione delle parti dell'impianto di Corinto. E con la riunificazione dell'impianto di Corinto. E a tutti i nostri amici di questa città. E a tutti i nostri amici di questa città. Perché ci hanno dato la possibilità di fare una esperienza unica. per la quale crediamo che Corinto possa acquistare un album di progetti. con una serie di visioni per il futuro. Molto importanti, molto realizzabili. Molto importanti, molto realizzabili. Ma non sappiamo se si faranno esattamente quelle cose. E noi non sappiamo se si faranno esattamente quelle cose. Ma sappiamo che certe cose si possono fare. Ma sappiamo che le rispettano le cose. e che come è successo in altre città con condizioni simili. In questa città e in questo territorio si può cambiare rapidamente la situazione. In questa città e in questo territorio si può cambiare rapidamente la situazione. ma affermano il corso sociale e in questo territorio si può cambiare piccoli! E migliorando la sua economia. Collegando la sua economia. E dando una nuova identità, una nuova personalità.. …quilla in questo territorio. E dando una nuova personalità. E dando una nuova progettità e taustà. Grazie ancora. Grazie. Grazie.